Inizia l'era della pallacanestro Trieste americana. Domani mattina saremo a Trieste per incontrare la squadra, lo staff, i soci di minoranza, i partner, gli sponsor, la stampa e una delegazione di tifosi. E questo il commento di Fitzan Herr Ride, presidente di CSGI, al termine delle operazioni formali che oggi hanno sancito il passaggio della pallacanestro Trieste al gruppo statunitense CSG. A Milano l'Assemblea dei Soci della pallacanestro Trieste ha approvato il bilancio al 30 giugno 2022, chiusosi senza perdite. Il consiglio di amministrazione della società si è concluso con le dimissioni dei componenti dopo aver nominato il nuovo consiglio di amministrazione secondo gli accordi stabiliti con gli americani. Quindi la formalizzazione del passaggio del 90% delle quote al termine delle quali è stata convocata in via straordinaria la prima assemblea dei nuovi soci. Cotonia Sports Group Italy ha indicato quattro dei cinque componenti Richard De Meo, che sarà il nuovo presidente, Fitzan Herr Ride, il vice, Connor Barwin e Mario Ghiacci, altro vicepresidente, Andrea Bochicchio, designato da Trieste Basket SRL e il quinto componente il consiglio di amministrazione. Ghiacci resterà anche quale general manager in stretto collegamento con De Meo e Ride che cureranno lo sviluppo di CSGI nel nostro paese. L'assemblea ha confermato i sindaci del precedente mandato, Ave Chinetti e Andrea Bussani.